Musica Si scaldano i motori del multisala Macerione Flabba di Fiume Freddo di Sicilia che sabato prossimo 9 novembre aprirà la stagione teatrale 2019-2020 con singolare femminile T e con Giovanna Criscuolo, bravissima attrice siciliana che non ha bisogno di presentazioni. Il teatro assente da anni torna finalmente nella cittadina ionica grazie al coraggio dei coniugi Domenico Barbera e Loredana Vecchio, quest'ultima figlia di Egidio Vecchio che insieme a Luigi De Maria futta i principali sostenitori del teatro e poi del cinema Fiume Freddo. Egidio Vecchio infatti dopo aver recitato per anni nella compagnia teatrale di Luigi De Maria ne fondò una sua intitolata dedicata allo stesso De Maria. Oggi a dimostrazione che il passato vive nel presente per costruire il futuro, i eredi del signor Vecchio e i coniugi Barbera che gestiscono il multisala Macerione Flaba hanno messo a punta in sinergia con il teatro catanese Listrione, un cartellone di teatro nazionale di tutto rispetto che prevede sette spettacoli, uno al mese da novembre a maggio, con due turni, uno pomeridiano ed uno serale. Lo spettacolo che andrà in scena sabato 9, singolare femminile, indaga le donne dal punto di vista femminile, non di rado ben più severo di quello maschile. Viene definita donna l'individuo che ha raggiunto la maturità anatomica e quindi l'età adulta. Una donna è madre, figlia, moglie, amante, amica, suocera, nuora. Ogni volta che ricopre uno di questi ruoli il comportamento cambia e anche il suo punto di vista. Cosa succede quando si confronta con un altro essere di sesso femminile? Cosa pensa realmente? Come esorcizza il tempo che passa inesorabilmente? Spesso sentiamo il giudizio e osserviamo dalla prospettiva degli uomini sull'argomento. Questa volta invece è proprio una donna a spiegare come vede le altre, mettendo risalto pregi e difetti femminili. L'ironia, l'invidia, la complicità, la competizione ci danno una consapevolezza. La donna è l'essere imperfetto per eccellenza e forse proprio per questo piace. Uno spettacolo che si preannuncia esilarante dunque, scelto per inaugurare la rassegna di teatro nazionale che partirà proprio sabato 9 novembre alle 17.30 e nel secondo turno alle 21. Il direttore artistico Valerio Santi ha commentato così questo nuovo inizio. Una stagione teatrale misurata perché la cittadina si riaccosta al teatro dopo diversi anni. Non per questo ci siamo risparmiati, proprio per partire con un cartellone che vuole essere un biglietto da visita, in grado di far capire al pubblico qual è l'impronta teatrale che vogliamo dare alla rassegna di Fiumefretto e far capire che abbiamo le carte in regola per creare negli anni delle stagioni ancora più corpose, puntando sempre alla qualità e mai alla banalità dei prodotti commerciali. Domenico Barbera, gestore del Multisala Maccherione, Flab ha aggiunto Dopo anni di silenzio teatrale ripartiamo con una rassegna di teatro nazionale cosci dei nostri limiti al tempo stesso della voglia di crescere. Abbiamo teso la mano alla cittadina sperando che Fiumefretto, la Ferri, recependo e respirando il vento di novità che siamo convinti potrà portare soltanto positivo fermento culturale nella comunità ionica. Questo fine settimana allora è vietato mancare al Multisala Maccherione per questo importante inizio. Giovanna Criscuola inaugurerà la stagione teatrale con Singolare Femminile di cui è autrice e attrice. Sì, esatto, bravo, preparatissimo. Sì, Singolare Femminile è uno spettacolo che ho scritto dopo il mio primo spettacolo di cabaret che tra l'altro si vedrà più in là, si vedrà proprio a marzo, sempre nella stessa stagione del Maccherione. È un secondo spettacolo scritto per par condicio in realtà perché nel primo spettacolo io parlo del rapporto uomo-donna ovviamente visto dal punto di vista femminile massacrando ovviamente il sesso maschile quindi mettendo un po' in risalto tutti i loro difetti. Di contro dico ma per par condicio, per evitare che poi maschietti possano dire che noi femminucce non siamo autocritiche e via dicendo ho scritto invece Singolare Femminile che andrà in scena proprio questo sabato con un doppio spettacolo alle 17.30 alle 21 dove in realtà non è che prendo in giro noi donne semplicemente metto un po' in risalto quelli che sono i difetti delle donne perché noi donne siamo complesse, siamo complicate riusciamo ad essere tutto se vogliamo ma possiamo anche essere, come dire, complici e carnefici nello stesso tempo di noi stesse e soprattutto nei confronti delle altre donne quindi si metteranno a confronto i rapporti suocera-nuora rapporto perso in partenza se sia nuora diciamo ecco il rapporto di due donne che hanno la stessa età e cosa pensa invece una donna che è sulla quarantina nei confronti di quelle più giovane di lei tutto questo in realtà è nato perché quando ho compiuto 40 anni per me si è aperta una tragedia infinita perché ho detto oddio non sono più giovanissima perché adesso col 4 è tutta una calata quindi in realtà è nato proprio per esorcizzare questo mio quarantesimo compleanno semplicemente questo Le abbiamo chiesto cosa si deve aspettare il pubblico che verrà ad assistere allo spettacolo sabato 9 novembre guarda io tendo sempre ovviamente a realizzare e a prenderci in giro nel senso buono del termine perché prendersi in giro significa anche essere autoironici quindi io mi prendo sempre molto molto in giro soprattutto come donna ogni tanto prendersi troppo sul serio non fa tanto bene a mio avviso però chiudo sempre così come anche nell'altro spettacolo chiudo sempre con una riflessione perché spesso noi ci facciamo travolgere e coinvolgere dagli eventi però magari dimentichiamo di soffermarci su qualcosina ma è proprio una chiusura semplicemente perché poi spero di far ridere per tutto il tempo dello spettacolo circa un'ora e dieci Infine l'artista ha commentato ai nostri microfoni la responsabilità che le è stata data dalla direzione artistica essendo con lei che aprirà un cartellone teatrale così importante è una doppia responsabilità per due motivi uno perché insomma ho l'onore di aprire questo meraviglioso teatro che conosco molto bene per questo è doppia perché io ho calcato quelle tavole del palcoscenico molti molti anni fa quando ero appunto più giovane e quindi mi ricordo erano i bei tempi i bei tempi in cui lavoravo con Enrico Guarneri erano magari i primi tempi erano i primi tempi quindi c'era anche quell'entusiasmo quella voglia di pensare al futuro è un ricordo bellissimo per me proprio legato a un periodo molto bello della mia vita e quindi mi sento doppiamente responsabile perché far aprire bene una stagione significa poi far sì che la gente possa parlare bene del primo spettacolo e quindi coinvolgere anche altre persone a fare l'abbonamento o a vedere un singolo spettacolo doppia responsabilità perché con Oncigriri e Ciancappari il 14 marzo ritorno però con uno spettacolo nuovo quindi grande riapertura della Cine Teatro Magherione di Fiume Freddo io vi aspetto sabato 9 potete scegliere o alle 17.30 o alle 21 singolare femminile ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti